il popolo sitav nuovamente in piazza castello una piazza granita sono circa 30.000 secondo gli organizzatori che sono scesi per dire sì alla tav novità di questo flash mob di questa seconda manifestazione gli amministratori circa un centinaio provenienti da venezia vicenza da ogni parte del piemonte genova per dire che questa opera è importante e sa da fare sì di nuovo per confermare la volontà e questa volta non solo di torino e della città metropolitana ma anche di tutta l'italia presente qua in rappresentanza con sindaci o assessori o altre rappresentanze che vogliamo la tante. Noi siamo favorevoli all'opera sosteniamo la bontà di degli investimenti finora fatti e quelli che verranno in futuro quindi non possiamo che essere contente quando qualcuno dice voglio l'italia dei sì voglio l'italia delle grandi opere per noi è un successo perché quello che noi abbiamo proposto su questa piazza il 10 di novembre. Siete favorevoli al referendum? Noi abbiamo detto sì il 10 di novembre torneremo a dire sì di nuovo oggi in piazza ci sembra che sia un'espressione molto significativa di cittadinanza e di rappresentanza di cittadinanza nelle figure degli amministratori dei sindaci ci pare già molto importante